Papà, basta con tutti questi segreti! Adesso devi dirmelo! Che cos'è la Guardia del Leone? La Guardia del Leone è la forza che protegge le terre del branco e difende il cerchio della vita. Secondo la tradizione, i prescelti della Guardia sono i più fieri, i più coraggiosi, i più veloci, i più forti e dalla vista più acuta delle terre del branco. E che fine hanno fatto? Qui non ci mette più piede nessuno da un'eternità. Temo purtroppo che questa sia una storia senza lieto fine. Tuo nonno Mufasa regnava sulle terre del branco e suo fratello minore Scar era a capo della Guardia del Leone. Anche Scar aveva il dono del ruggito. Il ruggito faceva sentire Scar più potente. Ma quel potere finì per dargli alla testa. Cominciò a pensare che doveva essere lui re anziché suo fratello maggiore Mufasa. Così Scar ordinò alla Guardia del Leone di aiutarlo a prendere il posto di Mufasa. Quando la Guardia si rifiutò, Scar divenne una furia. Quindi usò il ruggito per distruggere la Guardia del Leone. Ma Scar non aveva considerato che usando il ruggito per il male avrebbe perso il suo potere per sempre. Il ruggito è un dono molto potente. Può essere usato per fare cose buone, ma può anche portare al male più terribile. Io non potrei mai essere come Scar. Mai e poi mai. Sono felice di sentirtelo dire. Perché a partire da oggi, tu sei il capo della nuova Guardia del Leone. E io sono cosa? Hai sentito, Simba? Il capo della nuova Guardia del Leone sei tu! Sì, sei proprio tu! Papà? È così, Kion. Wow! È spettacolare! Sì, figliolo. E ora, come capo della Guardia, riunirai attorno a te coloro che giudicherai come i più coraggiosi, i più veloci, i più forti e dalla vista più acuta. Tutto chiaro, papà. Ricevuto! Non preoccuparti, ti renderò orgoglioso! Sì, Banga? È una cosa increbangadibile! Visto, Simba? Stai certo che Kion saprà scegliere i leoni migliori del branco per la Guardia? È quello che spero, Rafiki. Non sono ancora certo che sia pronto.